Le migliori alternative a Windows e Mac OS per principianti Linux nel 2024, per chi non apprezza la direzione in cui sembra non dare i piani di Microsoft o le politiche di aggiornamento irreversibile Apple. Linux può essere alla portata di tutti. Vediamo quali sistemi operativi, alternativi e gratuiti un utente di questo tipo può prendere in considerazione per regalare al proprio PC una vita più lunga di quella programmata e cambiare radicalmente abitudini facendo di tutto con software libero che non ti spia e non ti rallenta. Ciao, io sono Dario. Da almeno 15 anni Linux non è più destinato esclusivamente a server e ad esperti amministratori di sistema. La sua evoluzione in campo desktop è velocissima e impressionante. Molte distribuzioni, cioè varianti di Linux, sono sempre più semplici da avvicinare. La riga di comando nel 2024 non è più indispensabile per mettere a punto un PC Linux e usarlo per fare di tutto. Chi lo dice forse non prova Linux da anni, lo ha fatto con un sistema diverso da quelli che consiglio o con un solo sfortunato computer che monta chip di produttori disinteressati alla compatibilità con Linux. La forza di Linux, ma anche un po' un suo limite, è rappresentata dalla enorme scelta di sistemi operativi che può disorientare chi cerca di avvicinarsi. Talvolta un nuovo utente tende ad identificare Linux con Ubuntu, ma a mio personale parere c'è di meglio. Se non vuoi saltare subito alle mie proposte, ecco i criteri di scelta e di esclusione che ho seguito. Li ho già descritti in Il primo sistema operativo Linux per principianti guida alla scelta. Solidità del progetto e durata del supporto. Escludo progetti troppo recenti e non maturi, privilegiando quelli che hanno una storia alle spalle, un buon grado di maturità e non dipendono da un solo programmatore, ma da un team in grado di garantirgli comunque un futuro. Semplicità di prova, installazione, utilizzo. Escludo distribuzioni che pongano all'utente scelte di gestori di pacchetti o finestre e ambienti desktop in fase di installazione, privilegiando quelle con installer grafico, un ambiente desktop predefinito e sessioni live per provare il sistema via USB anche prima di installare. Niente problemi iniziali difficili da affrontare per un nuovo utente. Escludo sistemi per cui nei miei test siano sorti problemi o cosiddette inconsistenze tali da rappresentare ostacoli che un nuovo utente non dovrebbe affrontare. Saranno certamente risolti, ma è probabile che se un valido OS Linux rivolto a principianti non si trova nel mio elenco, questa sia la causa. Non specializzata ma generalista. Limito i miei suggerimenti a distribuzioni generaliste, adatte all'uso quotidiano di utenti comuni, con una dotazione di software predefinita già pronta all'uso per fare di tutto, che si prestano comunque ad applicazioni o di utilizzi specialistici con le dovute integrazioni di software. Sono altrettanto escluse distribuzioni minime ed alleggerite per computer con meno di 4 GB di RAM. Per quelle ho pubblicato sistemi operativi Linux leggeri e a 32 bit. Compatibilità hardware e multimedia. Escludo le pur rispettabili distribuzioni che non prevedono l'inclusione di software e driver non liberi in favore di quelle che antepongono semplicità, convenienza e azzerano le necessità di configurazione del computer o soluzione di problemi iniziali. Semplicità di aggiornamento e installazione software aggiuntivi. Includo solo sistemi operativi che prevedono il controllo automatico degli aggiornamenti disponibili, permettendo di scaricarli e applicarli con un clic, dotati di un centro software grafico con le più ampie possibilità di installazione di programmi aggiuntivi e di una procedura semplice per affrontare il passaggio ad una nuova versione. Ricchezza della documentazione e wiki e della comunità nei forum. La mia scelta si restringe a quei sistemi che offrano una ricca documentazione ufficiale, associata magari ad un wiki e ad un forum di supporto gestito dalla sua comunità di affezionati utenti. Ad amici e parenti che non hanno mai provato Linux e mi chiedono quale dei tantissimi OS installare, io suggerisco Linux Mint Cinnamon per computer con più di 4GB di RAM e Linux Mint XFCE con soli 4GB. Punto e basta. Ed è quello che consiglio anche a te. Ma il video sarebbe già quasi finito e comprendo che potresti desiderare altre opzioni anche senza un eccesso di proposte. Quindi, oltre a Linux Mint, includo ulteriori distribuzioni GNU Linux che un nuovo utente può prendere in considerazione per passare a Linux, sbarazzarsi di Windows o Mac OS e cambiare vita. Se hai meno di 4GB di RAM hai ancora speranze, ma non aspettarti miracoli, perché anche solo i browser e l'esperienza web sono radicalmente cambiati da quando è stato commercializzato il tuo computer. Il mio video, sistemi operativi Linux leggeri a 32-bit, è quello che fa per te. Ti ricordo che nella pagina blog di questo video trovi tutti i link. Metto il collegamento nella descrizione. Linux Mint Linux Mint nasce nel 2006 e basa le principali edizioni sulla concomitante versione LTS di Ubuntu, cioè quella che riceve aggiornamenti per 5 anni. Anche Mint garantisce 5 anni di aggiornamenti e per tutte le sue versioni. Ma oltre ad aggiornamenti minori .1, .2 e .3 ogni 6 mesi successivi, un nuovo rilascio maggiore è previsto ogni 2 anni. Ma una procedura di upgrade permette, con pochi click, di aggiornare senza reinstallare da capo. Linux Mint è il sistema operativo più popolare tra i nuovi utenti di Linux ed è consigliato spesso come ponte tra i sistemi commerciali e Linux. Cerca nel web distribuzioni Linux principianti o in inglese Best Linux Beginners. Troverai fin troppe scelte e spesso differenti, ma Linux Mint non mancherà mai. Quanto detto non significa che Linux Mint non sia adeguato ad un uso avanzato, altrimenti non sarebbe il mio unico sistema operativo dal 2018 per esigenze di grafica, programmazione, elaborazione di testi, creazione di contenuti, multimedialità in cui consistono il mio lavoro e le mie passioni. Rispetto ad Ubuntu non fa capo ad un colosso aziendale in cerca di profitto, ma è un progetto collaborativo. Vive di sponsor e donazioni, ma non ha nulla da vendere. Gli utenti chiedono modifiche o nuove funzioni, sono ascoltati e quasi sempre accontentati. Ad Ubuntu Linux Mint aggiunge semplificazione e toglie aspetti problematici. Esclude e blocca ad esempio lo Store di programmi Snap sviluppato e mantenuto con tecnologie non open source da Canonical, la società dietro Ubuntu, al centro di discussioni perché lontano dagli ideali di trasparenza del software e con rilevanti implicazioni sulla privacy. E non è un caso se, per gli utenti più attenti a questa dipendenza minima da Ubuntu, Linux Mint prevede anche un'edizione basata solo su Debian che fornisce un'esperienza d'uso identica alle altre. Con le uniche differenze della necessità di installare i driver Nvidia e nuovi kernel dal centro software piuttosto che dalle utilità integrate nelle sorelle. Trasparenza dei processi e privacy sono fissazioni del team di Linux Mint, orgoglioso di fornire un OS privo di funzioni di raccolta e trasmissione di dati personali o di utilizzo. Il tuo computer è tuo, non nostro, ha affermato il responsabile del progetto. La popolarità di Linux Mint è per larga parte dovuta alla sua stabilità, completezza e semplicità di installazione ed utilizzo. L'aspetto della sua edizione ammiraglia, Cinnamon, è assai intuitivo e facilissimo da usare anche chi abbia minima dimestichezza con il computer. Ce ne sono infatti altre due, Mate e XFCE, che hanno aspetto simile, sottili differenze in alcuni meccanismi e nell'aspetto e si adattano meglio a PC meno performanti o preferenze differenti. Linux Mint ha una ricca dotazione di programmi con alcune applicazioni di contorno appositamente realizzate. Questo consente un'esperienza d'uso gratificante e adatta a molti scopi, anche senza installare nuovi software. Esigenze di ufficio, multimedialità, driver proprietari per wifi e schede video e supporto per formati audio e video integrati sono pronti a fine installazione. Le esigenze di manutenzione sono minime. Quando il gestore aggiornamenti mostra un pallino rosso, clicchi un pulsante e aggiorni sistema, sicurezza e tutti i programmi preinstallati e installati successivamente. Ma anche scoprire ed installare nuovi programmi è assai semplice, attraverso gestore applicazioni lo Store di Linux Mint. Integra programmi open source e non della base sicura di Ubuntu. Molti altri sono compilati dai sorgenti o appositamente realizzati dal team per i propri utenti. Tutti verificati e sicuri. Integra anche molti programmi in flat pack. Si tratta di un formato più pesante in termini di dati e di spazio richiesto, ma consente di usare le ultimissime versioni di molti programmi senza dover attendere il successivo rilascio del sistema operativo e senza rischi di conflitti software. Linux Mint si rivolge ad un'utenza che richiede stabilità ed affidabilità a lungo termine, con esigenze minime di manutenzione, nel solco dei principi della sua parentela con Debian. La prova ne è anche l'integrazione di TimeShift, strumento per ripristinare il computer ad uno stato precedente se qualche aggiornamento crea problemi. Tra i grandi punti di forza di Linux Mint è anche la quantità di informazioni reperibili in rete e l'ampiezza della sua generosa comunità di utenti, che garantisce, anche tramite l'ottimo forum in differenti lingue, tra cui l'italiano, di trovare soluzioni e supporto personalizzato in caso di dubbi o problemi. E poi la stragrande maggioranza delle informazioni che ho pubblicato nel blog, qui nel canale YouTube e nei miei libri sono dedicate proprio a Linux Mint. Se nei 5 anni del suo ciclo di vita una versione di Linux Mint può risultare inadatta ad hardware commercializzato successivamente, può installare con un clic un kernel più nuovo, oppure scaricare l'edizione Edge, che lo prevede come predefinito. Riassumendo, Linux Mint è perfetto come primo sistema operativo Linux per semplicità, leggerezza e sobrietà dell'aspetto. Perfetto per te o per installarlo nel computer vecchiotto di parenti e amici. Stabilità senza sorprese, manutenzione minima e 5 anni di aggiornamenti gratuiti per ogni versione. Una ricca e generosa comunità permette di trovare informazioni e risolvere problemi nel suo forum. Zorin OS Apprezzo tanto Zorin OS ed è la mia seconda proposta, ma non è certo inferiore a Linux Mint. Nasce nel 2009 ed allora è portata avanti dai giovani fratelli Zorin, che con il loro sistema operativo competono per popolarità e diffusione con colossi come Red Hat, Debian e Canonical di Ubuntu. Il progetto si propone come alternativa semplice e completa per abbandonare Windows e Mac OS. Ha una marcata connotazione commerciale, a differenza di Linux Mint, e ne è un'ottima alternativa se desideri un aspetto più moderno rispetto a quello di Linux Mint o per altre peculiarità che ora vediamo. Ritengo siano molte le similitudini tra i due sistemi operativi, ed è la ragione per cui considero Zorin OS una distribuzione altrettanto valida. Estrema semplicità di installazione ed utilizzo, una base Ubuntu LTS con supporto per 5 anni, cui sono però aggiunti kernel o programmi più nuovi persino rispetto alla più recente versione di Ubuntu stesso. Ampissima la compatibilità hardware con un passo in più rispetto a Linux Mint perché integra nel file di installazione anche la più recente versione dei driver Nvidia per Linux, che con Mint, anche se con un click, si scarica e applica dopo l'installazione dall'apposita utilità. Il cosiddetto ambiente desktop, cioè l'aspetto di Zorin OS, è oggetto di moltissime attenzioni e permette di cambiare interfaccia con un click senza riavviare il computer, in base alle proprie preferenze. L'omogeneità dell'ecosistema, con il suo stile minimale ed elegante e con una serie di applicazioni mirabilmente rifinite, permette all'utente un'esperienza d'uso gradevole, senza fronzoli, ma assai completa nelle possibilità. Zorin OS prevede un'edizione di base chiamata Core ed una alleggerita chiamata Lite, compatibile con computer meno performanti o dotati di soli 4GB di RAM. Entrambe prevedono una buonissima dotazione predefinita di software in grado di assicurare lo svolgimento delle più comuni attività in rete, per l'uso da ufficio e per la multimedialità, già a fine installazione. Entrambe prevedono una licenza Pro a pagamento, che consente di scaricarle ed installarle su tutti i computer che desideri, anche in ambito lavorativo. I vantaggi dell'acquisto di una licenza commerciale, oltre a consentire di supportare le attività di sviluppo anche delle edizioni gratuite, consistono nella disponibilità di 10 differenti interfacce grafiche invece che 4, di godere di una ricchissima dotazione di software open source di eccellenza per applicazioni di ogni genere e di poter accedere ad un supporto di assistenza personalizzato in caso di difficoltà. Non si devono dimenticare le edizioni Education e Education Lite di Zorin OS, su cui sono concentrati lodevoli intenti per garantire una solida ed affidabile piattaforma per l'istruzione. Sono già piene dei migliori programmi open source in ambito didattico, scientifico ed educativo e sarebbe bello trovarle nelle aule di informatica, invece dei soliti noti che mirano a trasformare prima possibile i nostri figli in consumatori da profilare. Anche con Zorin OS la privacy infatti è garantita perché nessun dato personale viene raccolto e trasmesso e perché l'accettazione dell'invio di informazioni avviene in forma totalmente anonima permettendo di elaborare statistiche sul ricorso alle differenti versioni del sistema operativo. Anche per questa ragione la dotazione predefinita di tutte le versioni, a differenza di Ubuntu e altre derivate, non prevede alcun programma nel discusso formato snap. Il centro software da cui installare nuovi programmi prevede quelli degli archivi tradizionali di Ubuntu, i propri, i flatpack di FlatHub, ma permette anche all'utente di ricorrere, se lo vuole, a quelli in formato snap dallo store di tecnologie proprietarie di Ubuntu. Una ricca e curata documentazione in inglese ed un forum moderato eseguito da validissimi e generosi utenti permettono di prendere familiarità con il sistema operativo o di risolvere problemi già affrontati da altri. Riassumendo, Zorin OS è una distribuzione amichevole che mira ad offrire un'esperienza desktop semplice e minimale, ma gratificante, elegante e altamente personalizzabile, per facilitare il passaggio da OS commerciali. Mescola l'estrema solidità della base Ubuntu a lungo supporto con elementi di ulteriore novità in un ecosistema completissimo e facile per chiunque. PopOS nel giro di pochi anni dal suo iniziale rilascio è divenuta una distribuzione popolarissima e lo merita. Viene da System76, azienda statunitense che commercializza computer e soluzioni hardware basate su Linux, ovviamente ottimizzate per il sistema operativo di casa, ma PopOS può essere scaricato ed installato da chiunque. La distribuzione prevede un ambiente grafico minimale, privo di qualunque elemento sul desktop. Scopo dichiarato è infatti quello di evitare qualunque fonte di distrazione durante l'utilizzo ed è particolarmente rivolto a professionisti creativi. Nel sito ufficiale si legge Il tuo sistema operativo dovrebbe incoraggiarti la sua scoperta, non ostacolarla. Anche PopOS è basata sulla concomitante versione LTS di Ubuntu. L'inclusione del più recente driver per schede Nvidia in apposita edizione ne fanno un sistema adatto a scopi professionali per programmatori, grafici, rendering, IA o gaming. Che si tratti di un ambiente rivolto alla produttività e a chi passa tanto tempo di fronte allo schermo lo si intuisce anche dal rilassante tema scuro predefinito che si ritrova in ogni elemento del desktop, con tonalità di colore adeguate, gradevoli e sempre uniformi. Con il clic sulla scritta Applicazioni si apre il pannello con i programmi installati. Con WorkSpaces l'anteprima delle finestre disposte in eventuali desktop virtuali supplementari. Con il clic sul pannello a destra si gestiscono connessioni, audio e sessioni. Niente distrazioni insomma. PopOS integra nativamente un meccanismo di affiancamento automatico delle finestre che rappresenta certamente il suo elemento più caratteristico. Perfetto per schermi ad alta risoluzione o postazioni multi-monitor. Lo attivi con un interruttore da apposito menu. Ogni nuova finestra provoca l'adattamento automatico dello spazio del desktop tra quelle già aperte. Risulta molto intuitivo ridimensionare gli spazi a seconda delle proprie necessità o arrangiare diversamente le finestre. Il cosiddetto tiling è possibile anche in altre distribuzioni Linux. Linux Mint Cinnamon e LMDE ad esempio hanno l'estensione gTile installabile con un clic. Ma PopOS, a differenza di tante altre, integra nativamente il meccanismo e lo fa in modo eccezionale. PopOS nell'ultimo periodo è sottoposto ad una riscrittura completa del suo aspetto, con una tecnologia differente da quella dell'ambiente desktop GNOME finora adottato e riadattato. Per il nuovo Cosmic Desktop è previsto l'esordio ufficiale con la versione 24.04 di PopOS, che dovrebbe venire rilasciata prima dell'estate 2024. Nelle intenzioni di System76 questo dovrebbe garantire ampio spazio di manovra senza dipendere dal progetto GNOME, con cui sono sorti anche forti contrasti durante la collaborazione, sfociati in una serie di botta e risposte a pubblici senza mezzi termini. Per l'utente che adotta PopOS prima del rilascio della versione 24.04 non dovrebbe fare alcuna differenza in termini di usabilità, se non forse in meglio. Nella finestra di aggiornamenti troverai la possibilità di migrare il tuo sistema alla nuova versione appena disponibile. Anche PopOS non integra nativamente il supporto per Snap Store di Ubuntu nei suoi repositori personali, ma quello per i Flatpak di Flathub. Un'altra ottima scelta per un sistema su base Ubuntu, ma non troppo. Riassumendo, PopOS è un sistema operativo stabile ed affidabile per passare a Linux se non vuoi necessariamente un aspetto simile a quello di Windows o Mac OS, ma comunque intuitivo e privo di fronzoli. Puoi usarlo come sistema per tutti i giorni, o meglio, se sei un programmatore o un gamer, per la sua caratteristica organizzazione delle finestre e per l'ampio supporto hardware. KDE Neon KDE Neon è una distribuzione Linux che proviene dal team KDE. Tale team è responsabile non solo del progetto Plasma, l'ambiente desktop adottato anche in Ubuntu, la più popolare delle varianti ufficiali di Ubuntu, ma di un intero ecosistema di apprezzatissimi software di alto livello. Ritengo KDE Neon il miglior modo di sfruttare e conoscere tempestivamente le novità introdotte con i software KDE e l'ambiente Plasma, tra i fiori all'occhiello del panorama Linux. Le differenze tra Kubuntu e KDE Neon possono sembrare sottili, ma le ritengo di enorme impatto. Kubuntu è Ubuntu a tutti gli effetti, con tanto di programmi Snap preinstallati e nessun supporto nativo per il formato Flatpak. Kubuntu integra versioni di Plasma anche piuttosto datate e talvolta con ampie modifiche. Con Neon avviene il contrario. Il team KDE prende una parte dei sorgenti di Ubuntu nella sola edizione LTS con supporto a lungo termine e ci cuce attorno il suo ecosistema rilasciando aggiornamenti al desktop e ai suoi programmi appena disponibili. Senza aggiustamenti o modifiche delle impostazioni predefinite di Ubuntu, lo dicono loro, e quindi proprio come il team KDE li ha concepiti. Mentre Kubuntu ha però una dotazione di software di tutto rispetto, il team KDE rilascia Neon con il minimo indispensabile e nemmeno una suite di programmi da ufficio, ad esempio. Citarla rappresenta quindi un'eccezione in base al mio criterio di escludere distribuzioni senza un adeguato parco software predefinito. Il centro software Discover, tipico delle distribuzioni Linux che adottano Plasma, permette infatti anche al nuovo utente di scoprire tantissimi programmi testati ed affidabili suddivisi in categorie che possono essere integrati nel sistema con un click. Tra queste, sotto ufficio, si trova la più recente versione di LibreOffice. Oppure si scoprono OnlyOffice, WPS Office e altre possibilità ancora. Se cito KDE Neon, lo faccio perché ritengo meriti di essere considerata una sensata e preferibile alternativa a Kubuntu. Anzitutto la versione 5.27 di Plasma, inclusa nella più recente versione di Kubuntu, la 2310 al momento del video, risale ad un anno e mezzo fa. Mentre Neon, malgrado la sua base Ubuntu 22.04, già dispone della rivoluzionaria versione 6 e del relativo framework. Primo vantaggio non da poco. Poi Kubuntu, Ubuntu o altre sue derivazioni ufficiali vedono preinstallati i programmi nel formato Snap, sviluppato con tecnologie proprietarie da Canonical, la stessa società dietro Ubuntu. E non hai altro modo se non questi, in alternativa ai sempre più ridotti software presenti negli archivi tradizionali dei pacchetti DEB di Ubuntu. Il centro software Discover, in Neon, oltre ai programmi degli archivi tradizionali di Ubuntu e quelli specifici di KDE, integra i programmi in formato Flatpak, alternativo a quello Snap e li rende installabili con un clic. Il supporto per Flatpak però non è presente nel centro software Discover in Kubuntu, né in quello di Ubuntu o altri derivati ufficiali perché concorrente con il formato Snap che Ubuntu intende spingere. La maggiore scelta è un altro punto a favore di Neon, quindi. L'ambiente desktop plasma è apprezzabilissimo se cerchi un ecosistema configurabile e personalizzabile nei minimi dettagli. Alcuni utenti Linux, abituati alla semplicità ed immediatezza di altri ambienti, lo trovano persino complicato. Il team KDE dimostra agli scettici che un desktop Linux non ha nulla da invidiare a quello di concorrenti commerciali. Eppure che tramite applicazioni come Ocular, KDN Live, Krita, KATE o KDE Connect, passare a Linux non significa accettare rinunce in termini di funzionalità o di grandi programmi. Dimostra infine che il suo progetto ha per l'utente finale diversi punti di vantaggio rispetto a Kubuntu, in cui la convenienza per l'utente cede rispetto a quella finanziaria e di profitto dell'azienda che lo rilascia. Riassumendo, KDE Neon è la migliore distribuzione Linux stabile per sperimentare prima possibile su una solida base Ubuntu LTS le ultime novità dell'ambiente grafico plasma e dei programmi dell'ecosistema KDE, ridotta quanto a software preinstallato ma con le più ampie possibilità di integrarne di nuovi in modo semplice e gratificante. MX Linux potrebbe non essere considerato un sistema operativo adatto ad un nuovo utente di Linux. È basato sulla concomitante versione stabile di Debian, la cui affidabilità è proverbiale. Tra i suoi segni distintivi ci sono infatti gli eccezionali MX Tools, rivolti certamente ad utenti esigenti con una buona conoscenza di Linux, garantiscono il compimento di operazioni di amministrazione persino molto complesse che in altre distribuzioni richiedono la riga di comando o la modifica manuale di file di configurazione. La base Debian implica che ogni due anni sia rilasciata una nuova versione di MX Linux e che un utente si metta presto in moto per installare l'ultima versione dopo un backup visto che non è prevista una procedura di aggiornamento ufficiale. In questi aspetti LMDE, la versione di Linux Mint Cinnamon su base Debian invece che Ubuntu fa di meglio. Malgrado questo ci sono anche molti aspetti per cui MX Linux possa essere considerato un sistema operativo adeguato anche ad utenti nuovissimi di Linux ed inesperti. Anzitutto la popolarità e l'entusiasmo che negli ultimi anni ha visto raccogliersi intorno al progetto una ricchissima e generosa comunità di affezionatissimi utenti, che si occupa di curare tanti aspetti, dalla stesura e traduzione in tutte le lingue dell'ottima e ricchissima documentazione ufficiale oltre che di supportare nel vivacissimo forum utenti in difficoltà. Lo è anche la presenza di una schermata di benvenuto che accoglie l'utente a fine installazione e consente di familiarizzare con l'OS, personalizzarlo, configurarlo e utilizzarlo, oltre ad offrire tante possibilità di approfondire o trovare soluzioni ad eventuali problemi. MX Linux viene rilasciato in una edizione ammiraglia, il cui aspetto è basato su una versione personalizzata dell'ambiente desktop XFCE, il medesimo adottato da Xubuntu e Linux Lite. Questo garantisce un impatto medio-basso sulle risorse del sistema, rendendo MX Linux adatto anche a computer meno performanti, senza però sacrificare un'esperienza d'uso gradevole e completa e con possibilità di personalizzazione tra le più ampie del panorama Linux. Un utente abituato alla cosiddetta metafora tradizionale del desktop Windows potrebbe trovarsi a disagio per il posizionamento sul lato sinistro, invece che inferiore, del pannello, la barra che raccoglie il pulsante per il menu, le icone informative e quelle dei programmi di uso frequente o aperti. Ma basta modificare una singola opzione per posizionare il pannello in basso, per tirare un sospiro di sollievo e godersi un sistema operativo di cui non ho ancora sentito un utente lamentarsi. Altrimenti MX Linux è disponibile con l'ambiente desktop Plasma del team KDE, il medesimo adottato da Kubuntu e KDE Neon. Meno leggero forse di quello XFCE ma assai gratificante e ricchissimo di opzioni e personalizzazioni. Gli aggiornamenti di sicurezza e dei programmi in MX Linux sono controllati automaticamente e notificati all'utente che puoi installarli con un click. Quello che forse manca a MX Linux ma solo nell'edizione XFCE rispetto a Linux Mint e Zorin OS è un'esperienza di esplorazione, scoperta ed installazione di nuovi software altrettanto semplice e gratificante, specie per un nuovo utente di Linux. Dall'applicazione MX installa pacchetti si può consultare un elenco limitato di programmi di uso comune che possono essere installati però cumulativamente dopo averli selezionati. Si riferiscono a programmi presenti negli archivi personali di MX Linux ma rappresentano solo una piccola selezione delle possibilità. Senza dubbio sono i migliori e quelli di uso più comune, intendiamoci, e in effetti sono integrabili senza sforzi anche i programmi degli archivi Debian tramite il gestore pacchetti Synaptic o anche i Flatpak di FlatHub. E se tutto questo risulta certamente abbastanza per chi abbia già familiarità con Linux e i suoi software, può non essere il massimo per un utente alle prime armi. Questo limite può facilmente venire superato ricorrendo all'edizione KDE di MX Linux, che sfoggia l'articolato Desktop Plasma e ne include il tipico centro software grafico Discover, in cui esplorare l'infinità di proposte software per Linux, categorizzate, piene di schermate, descrizioni approfondite e le valutazioni degli utenti. Un aspetto non trascurabile della popolarità di MX Linux, forse non rilevante per un nuovissimo utente, è la sua scelta controcorrente per l'avvio dei servizi software, che come invece succede nella maggioranza degli altri sistemi operativi Linux, non è affidata per impostazione predefinita al software Systemd, talvolta ritenuto responsabile di fare troppe cose e non farle bene. Per un utente digiuno di Linux che vuole approfondire MX Linux, suggerisco la visione di un ottimo video dell'amico Maurizio Lonobile, trovi il link nella descrizione. Riassumendo, MX Linux è una distribuzione Linux per utenti esigenti, con una predisposizione all'amministrazione avanzata di sistemi e che, pur in cerca di qualcosa di stabilissimo ed utilizzabile senza intoppi, non si accontenta di OS generalisti come Mint o Zorin. Perché niente Ubuntu? Domanda legittima. Chi mi segue da un po' lo sa. La risposta volevo aggiungerla qui, ma è diventata così articolata e lunga da meritare un articolo ed un video a parte. Che arriveranno molto presto. Se ti interessa non perdiamoci di vista. Come fare per provarle? Per provare una delle mie proposte, entra nel sito ufficiale del progetto e scarica il file ISO. Meglio tramite torrent o un ftp aperto come ftpv.de che con il browser. Verifica il file e prepara il supporto USB di installazione, come ho suggerito nel video sulla preinstallazione. Lì spiego anche come aggirare alcuni ostacoli messi nel tuo PC con la scusa di renderlo più sicuro, ma in effetti per impedirti di installare un sistema operativo differente. Se hai un supporto USB esterno sufficientemente capiente, puoi anche mettere tutte le immagini ISO nello stesso supporto con ventoi. Ho realizzato un apposito video per questo. A questo punto puoi verificare ognuno dei sistemi operativi discritti in una cosiddetta sessione live, caricando temporaneamente nella memoria RAM tutto ciò che serve a provarlo senza toccare l'hard disk per prenderci confidenza e verificare che tutto l'hardware funzioni correttamente. Durante le sessioni live alcuni sistemi sono in lingua inglese, ma in fase di installazione ed è sempre bene farlo con una connessione ad internet già attiva, sono scaricate ed installate tutte le traduzioni in qualunque altra lingua tu desideri. Appena ti senti pronto, potrai installare il sistema operativo cancellando il disco per riservarglielo per intero oppure affiancandolo a quello preesistente in un cosiddetto dual boot doppio avvio con un menu di scelta per selezionare quello che desideri all'accensione. Verifica sempre la documentazione ufficiale. Io ho preparato due differenti video per affrontare l'installazione in modo semplice o per utenti avanzati. Sono rivolti a Linux Mint ma applicabili anche ai sistemi proposti oggi. Dove trovare aiuto? Informazioni e assistenza vanno cercati nei canali giusti. Non sempre coincidono. C'è chi scrive tutorial nei propri blog o realizza video. Più raramente entrambi. E c'è chi offre supporto nei forum. Parti dalla documentazione o dal wiki nel sito ufficiale per le informazioni. Per documentazione su Linux Mint hai anche il mio blog e il canale che gli sono stati praticamente dedicati. Per supporto e assistenza, se non trovi risposta nella documentazione, fai una ricerca web perché la quasi totalità delle informazioni che potrebbero servirti esiste già. E chi sa usare un motore di ricerca sembra banale ma purtroppo non lo è, le trova immediatamente senza chiedere a nessuno. Oppure cerca o chiedi nel forum della distribuzione. Lì non c'è una sola persona dalle conoscenze limitate a rispondere a tutti. Ma ce ne sono tante e con tantissime competenze che mentre io scrivo tutorial e registro video entrano lì apposta per dare aiuto a chi è in difficoltà. A ciascuno il suo, dicevano nell'antica Roma. Infine, ma non certo per ultimo, anzi per finire col botto, conosci i Lug? Sono i Linux User Group. Ce ne sono tantissimi in tutta Italia e sono collegati al distaccamento italiano di Linux. La Italian Linux Society. Sono una specie di versione fisica dei forum degli utenti. Fatti di volontari che si prestano generosamente e senza presentarti un conto me lo chiede sempre qualcuno. Forse di fretta e o in cerca di consigli personalizzati. Ma io ho preparato questo video per te. Se hai un PC con almeno 4GB di RAM tutte vanno bene. Non ce n'è almeno una che ti incuriosisce? Allora parti dalla prima e se non ti piace passa alla seconda e via dicendo. Se ancora vuoi capirne di più di Linux prima di scegliere un sistema operativo, ti consiglio altri miei video. Come orientarsi tra le distribuzioni Linux. Rolling verso Fixed Release in Linux. Distro Hopping in Linux. Alternative a Ubuntu. Li trovi partendo dalla pagina principale del canale. Sono così pochi che ti ci vuole un attimo per vedere anche tutti gli altri. In tutti i casi ti auguro di ricordare in futuro questo anno bisestile come tutt'altro che negativo. Come quello in cui hai dato prova di volerti sottrarre a logiche commerciali folli, imposizioni, violazioni sistematiche della tua privacy e obsolescenza programmata. E ci sei riuscito passando a Linux conquistando la libertà. Supportami con un mi piace iscrivendoti al canale o condividendo con altri i miei contenuti se lo desideri. Componderzi enforce this video. Comunque grazie per il tempo che mi hai dedicato e a presto. Grazie. Autore dei sorrisi